la fede in uno dei commenti di aurobindo al testo originale si legge la fede nel senso spirituale non è un credo mentale che può oscillare o cambiare la forma nella mente può oscillare ed il credo non è la fede in se stessa è solo una forma esterna proprio come il corpo nella sua forma esterna può cambiare ma lo spirito, l'essenza, rimane lo stesso per la fede è la stessa cosa la fede è la certezza dell'anima che non dipende né da un ragionamento né da un'idea mentale né dalle circostanze né dalle condizioni che passano nella mente o nel corpo e la fede non dipende dall'esperienza è qualche cosa che è lì prima dell'esperienza è un'idea mentale è un'idea mentale